A piazza delle 5 e l'1 una galleria da spazio all'arte e al design attraverso una serie di appuntamenti che vedono protagonisti affermati e giovani promesse esporre le loro creazioni, dai gioielli agli abiti, dai vasi alle borse, tutto rigorosamente fatto a mano. Appuntamento fisso con arte e design ogni mese alla galleria alle 5 e l'1, lo spazio espositivo apre le sue porte a 18 artisti affermati ed emergenti e alle loro creazioni si va dagli abiti ai vasi, dai gioielli alle borse, dalle lampade ai più elaborati oggetti di design realizzati con materiali poveri o con pietre preziose, tutto rigorosamente fatto a mano. Ho messo su questo spazio per offrirlo a queste persone che hanno voglia di dire, quindi c'è di tutto, c'è chi si occupa di materiali, usa materiali preziosi per fare oggetti più disparati e certi invece con delle materie molto semplici, comunque sono altrettanto creativi e originali. L'evento nasce da un'idea dell'associazione Incontri Eventi, da sempre impegnata nella promozione dell'artigianato artistico, una vera e propria fiera che si svolgerà 4 giorni al mese fino a dicembre 2011, dove si potranno conoscere gli artisti, acquistare le loro creazioni e ce n'è davvero per tutti i gusti, dalle collane che al posto dei ciondoli presentano palloncini di plastiche a sgonfi, agli anelli di catering frangenti, dalle borse abbinate a caffettiere e bracciali realizzati con plexiglass e fibre ottiche. Capire l'artigianato, capire che dietro ci sono gli artigiani, perché insomma sono un patrimonio loro preciso, di una creatività veramente infinita, fanno ricerca, persone serie che vanno comunque appoggiati. Prossimo incontro dall'11 al 14 novembre, il tema sarà le materie ceramica, vetro e co. Prossimo incontro dall'11 al 14 novembre.